Ormai sono un po' di anni che ho deciso di affidare la produzione delle mie canzoni a vari produttori quindi sono stata molto attenta a trovare dei produttori che mi aiutassero negli arrangiamenti a trovare una direzione particolare perché la scrittura delle canzoni è molto simile nel senso che alla fine mi ritrovo o a scrivere personalmente o a scegliere dei brani che hanno una scrittura comunque prevalentemente pop o pop rock quindi avevo bisogno di artisti particolari e speciali che mi aiutassero a renderle uniche in tutti gli aspetti che riguardano la produzione quindi mi sono rivolta a Celsovalli, mi sono rivolta a Corrado Rustici per la prima volta ho prodotto alcune canzoni con Daniel Buletic e Nick Ingman anche un giovane produttore che si chiama Simone Bertolotti e poi ho prodotto insieme a Paolo Carta alcune delle canzoni più importanti di questo mio nuovo disco Grazie per la visione! Grazie per la visione!